TG12, ben trovati, edizione di sabato 25 maggio. Vediamo subito i titoli principali della giornata. La Brigata Sassari impegnata a Roma visita le catacombe di San Sebastiano, uno dei primi luoghi di sepoltura della cristianità antica. Confindustria e Camera di Commercio a Nord Sardegna organizzano un fam-trip sulle eccellenze sarde per il mercato inglese. Il tema della violenza domestica affrontato in una performance di danza al civico di Sassari, ispirato al libro Ferite a morte per la regia di Livia Lepri. Si rinnova nel pomeriggio anche quest'anno la Festa del Voto, una delle processioni più sentite di Sassari, come della tradizione iniziata nel 1993. La traslazione del simulacro della Madonnina delle Grazie del Santuario di San Pietro in Silchi alla Cattedrale di San Nicola. Sarà cura del Corpo di Polizia Municipale. All'interno del santuario, a partire dalla Santa Messa delle 17, i vigili urbani in alta uniforme renderanno omaggio alla loro santa compatrona. Al termine della funzione, il corteo d'onore dei veicoli di servizio scorterà il simulacro della Madonnina lungo il piazzale San Pietro fino a Piazza San Duomo. Il percorso sarà interdetto alla circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo. Domani la processione solenne con il simulacro della Beata Vergine andrà dal Duomo di San Nicola fino alle vie, si snoderà per tutte le vie, sino al piazzale di San Pietro in Silchi. Una rappresentanza di soldati impegnati a Roma nell'operazione Strade Sicure sotto il comando della Brigata Sassari ha visitato le catacombe di San Sebastiano, uno dei primi luoghi di sepoltura della cristianità antica. Per i militari, un'occasione di riflessione sui valori universali a cui si ispirano anche le forze armate. Ce ne parla Marco Sanna. Le catacombe di San Sebastiano a Roma furono uno dei primi luoghi di sepoltura e di preghiera dei cristiani. Il luogo sotterraneo sotto il convento dedicato al Santo, sull'Apia Antica, è stato visitato da una rappresentanza di soldati del raggruppamento Lazio-Abruzzo a guida a Brigata Sassari, l'unità dell'esercito, da gennaio a Roma al comando dell'operazione Strade Sicure. Nel corso della visita i militari hanno avuto l'occasione di vivere un'esperienza diversa e riflettere sulla vita di San Sebastiano, pretoriano, romano e martire, sulle tradizioni, gli usi e costumi della primitiva comunità cristiana, sulle prime espressioni artistiche ispirate dalla sua fede e sul percorso storico che ha dato vita al Medioevo. Il luogo è legato anche alla memoria degli santi apostoli Pietro e Paolo, che qui furono temporaneamente sepolti alla metà del III secolo, alla cui scoperta ha contribuito Fraldamiano Pinna, un francescano e un archeologo sardo, le cui spoglie riposano nella basilica stessa. Padre Massimiliano Cocci, guardiano del convento, ha ricevuto i soldati e ha sottolineato l'importanza del sito. Le catacombe sono una sorta di memoria sotterranea ma vivente, ha spiegato il francescano, prima di tutto perché al loro interno si vive un'esperienza di interiorità anche fisica, dovuta alla loro articolazione e profondità. C'è anche l'aspetto della fede, con la speranza della risurrezione e un indiscutibile valore artistico, specialmente negli affreschi. La visita si inquadra nell'ambito delle iniziative, volute dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, finalizzate all'innalzamento del benessere e del personale, anche in termini di conoscenza della storia militare e delle vicende storiche del Paese. Il FAM Trip è organizzato da Confindustria e Camera di Commercio Nord Sardegna per far conoscere le eccellenze sarde al turismo anglosassone. Si è concluso dopo aver visitato 7 strutture ricettive in tutta la Sardegna e 13 aziende coinvolte. Sentiamo. Concluso il FAM Trip con Tour Operator e agenzie inglesi, organizzato da Confindustria Centro Nord Sardegna e Camera di Commercio del Nord Sardegna. Il progetto Sardegna Fine Time è partito il 20 maggio con l'arrivo degli ospiti inglesi all'aeroporto di Elmas. Hanno visitato e soggiornato in 7 strutture ricettive di tutta l'isola, da Cagliari nel Tiotela, Villa Simius, l'Hotel Cormoran, da Oliena al Sugologone, a Santiodoro le Due Dune, Fenicotero Rosa e Don Diego e a Golf Aranci e il Gabbiano Azzurro, ultima tappa. Hanno così potuto conoscere l'offerta delle strutture alberghiere di alto livello il 4 Stelle e anche alcuni prodotti agroalimentari sardi inseriti nel progetto. In totale sono state coinvolte 13 aziende. Al termine del FAM Trip, organizzatori e ospiti hanno incontrato la stampa per un bilancio dell'iniziativa al quale sono intervenuti Nicola Monello, presidente sezione turismo della Confindustria Centro-Nord Sardegna, Gavino Sini, presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, la padrona di casa Antonella Totti da Tome, direttrice marketing dell'Hotel Gabbiano Azzurro e Gian Simone Masia, direttore della Confindustria CNS. Il Centro Studi Agricoli si è dichiarato favorevole all'apertura dopo due stagioni di chiusura alla caccia di lepri e pernici nell'isola, contraria all'istituzione delle riserve. Spetta ora l'assessorato regionale all'ambiente il concerto con il Comitato regionale faunistico definire il calendario venatorio. Ce ne parla Walter Fanni. L'ufficio di presidenza regionale del Centro Studi Agricoli, guidato da Tore Piana, dopo due stagioni di chiusura, si è dichiarato favorevole alla riapertura della caccia a lepri e pernici in tutta l'isola. L'istituzione di otto ambiti di caccia, i famosi ATC a ferma Piana, crea imparzialità tra cacciatori privilegiati, che ha accesso alle riserve autogestite, e cacciatori che non ne fanno parte. Per queste ragioni ci siamo attivati per richiedere un parere preventivo sia all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale che all'assessorato regionale all'ambiente. Secondo quanto riferito dall'ISPRA, prosegue in una nota il Presidente del Centro Studi Agricoli, i censimenti svolti su queste due specie all'interno delle riserve autogestite, che rappresentano l'11% dell'intero territorio, sono considerati sufficienti per autorizzare la caccia su tutto il territorio regionale. Spetta ora la Regione Sardegna e in particolare dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, in concerto con il Comitato Regionale Faunistico, definire il calendario venatorio regionale. Come Centro Studi Agricoli, conclude Ettore Piana, vigileremo su quanto sarà disposto dalla Regione e ci attiveremo per proporre la modifica della legge regionale 23 sulla caccia in Sardegna, che riteniamo abbondantemente superata. Nono weekend per emozioni di primavera con Antoine Desesperie. Domani escursione guidata nel cuore del parco di Portoconte, sul sentiero di Punta Giglio, sulle tracce del Piccolo Principe. Alessia Senes. Il nono weekend di emozioni di primavera mette in motto la macchina del tempo per rivivere le avventure di Antoine Desesperie, il famoso autore francese del Piccolo Principe, durante la sua permanenza ad Alghero. Quel bambino che volando nel cielo si è perso nel mare ritorna nei luoghi incantati del parco di Portoconte. La cooperativa Explore Alghero organizza un'escursione guidata sul sentiero di Punta Giglio domani, 26 maggio, con partenza alle ore 10 da Punta Giglio. Sulle tracce del Piccolo Principe è un percorso affascinante nel cuore del parco. Arricchito dalle letture di alcuni passi del Piccolo Principe, proprio negli stessi luoghi e negli stessi sentieri, dove Antoine Desesperie si avventurava per trovare ispirazione per i suoi libri. Ad interpretare alcuni passi del libro di Luciano De Riu, il Piccolo Principe dall'Isola alle Stelle, l'attore Roberto Bilardi. Durante il tragitto le guide illustreranno il percorso, le caratteristiche ambientali floristici e faunistici del territorio. Per prenotare l'escursione, chiamare Explore Alghero al numero di telefono 331 34 00 862 o mandare una mail a info-explore-alghero.it. A disposizione di visitatori inoltre, per tutto il fine settimana a Casa Gioiosa, sede del parco, le aule didattiche e museali, con la possibilità di degustare, nella pausa pranzo, i prodotti delle aziende certificate presenti all'emporio del parco. Nuova tappa ieri a Tissi nella biblioteca comunale del progetto Impronte. L'iniziativa benefica a favore della prevenzione oncologica nata da un'idea della stinista Antonella Fili e della giornalista Roberta Gallo. Ce ne parla Sandra Sanna. Un libro originale che si legge al contrario è una sfilata con testimonial d'eccezione per una serata nella biblioteca comunale di Tissi all'insegna della speranza, ma soprattutto della prevenzione oncologica. Il progetto Impronte è stato presentato a una vasta platea dalle ideatrici di questa ambiziosa iniziativa, due portatori sidoc, la stilista Antonella Fili e la giornalista scrittrice Roberta Gallo, che hanno messo in campo le proprie competenze con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di un sofisticato macchinario che consenta la diagnosi precoce dei tumori. Il volume Impronte raccoglie le testimonianze di donne di ogni età che hanno combattuto il cancro da pazienti o da ricercatrici. La serata si è aperta con la sfilata dei costumi realizzati da Antonella Fini, una collezione che tiene conto della personalità delle modelle che hanno reso pubbliche le loro emozioni ed esperienze e che coraggiosamente, così come hanno affrontato la malattia, si presentano in pubblico con l'orgoglio di chi non si arrende, ma lotta per la propria vita e soprattutto per la propria famiglia. All'evento erano presenti il sindaco di Tissi, Giovanni Maria Budroni, il vice Domenico Masia e la ricercatrice Rosa Maria Pascale dell'Università di Sassari. I volumi del libro Impronte sono disponibili presso la biblioteca comunale di Tissi. A Palazzo di Città, la kermesse diretta da Livia Lepri, la dedicata alla violenza domestica e al linguaggio di genere. Lo spettacolo ideato dall'ASMET Balletto di Sardegna di Cagliari è ispirato al libro Ferite a morte di Serena Dandini. Sentiamo. Dal linguaggio del gesto danzato al linguaggio di genere per coinvolgere e sconvolgere, far riflettere e infrangere il silenzio della società. A Palazzo di Città, l'Associazione Danza Estemporada ha inaugurato l'ottava edizione di Primavera Teatro, con un appuntamento dedicato alla violenza domestica e agli orrori del femminicidio, attraverso l'espressività artistica della composizione Fiore di Lotto. Una performance della compagnia ASMET di Cagliari, ispirata al libro Ferite a morte di Serena Dandini. La carmessa è stata diretta da Livia Lepri e presentata da Roberto Manca, direttore artistico dell'Associazione Culturale Music & Movie. Al di fuori degli schemi di un assetico dibattito, l'incontro si è proposto come momento di riflessione, ma anche di relazione e condivisione. Fiore di Lotto ha portato in scena una partitura emotiva creata da Segno d'Atena, con l'intento di preservare i toni di delicata e versatile ironia propri dello stile della Dandini. Lo spettacolo è stato interpretato da Agnese Fois, Camilla Soru, Chiara Aru, Cristiana Camba e Sara Manca, che è anche l'autrice delle coreografie. L'obiettivo è quello di non smettere di parlare di violenza domestica e cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare l'opinione pubblica. Ci fermiamo ora a qualche istante per una breve pausa pubblicitaria. Ritorniamo con la pagina sportiva. Restate con noi. Ritorniamo con la pagina sportiva. Ritorniamo con la pagina sportiva. Ritorniamo con la pagina sportiva. Ben tornati in studio con la pagina sportiva. Nel terzo giorno di incontri alla città di Sassari sono salite sui tappeti del Palace Santoro le donne, anche loro in lotta per aggiudicarsi i punti in questa importante tappa di ranking series. Il pubblico presente si è gustato un mix di gesti tecnici di assoluto livello, offerto da campionesse di altissima caratura provenienti da ogni parte del mondo. Purtroppo non sfondano le atleti azzurre, nessuna sul podio e l'unica che si è giudicata un incontro è stata Francesca, indelicato nei 57 kg. Ed era questa l'ultima notizia, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sul sito canaledodici.it e sui social facebook, instagram e youtube. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci!